Buonasera a tutti, eccoci arrivati con il classico webinar insieme agli amici di G. Quest'oggi è luglio, quindi siamo praticamente in piena estate, ma anche così noi siamo qua a fare della buona formazione riguardante il trading. Questa sera vedo che c'è già un po' di gente collegata, quindi mi fa molto piacere. Vi ricordo che io appunto sono arruinoschenato e che questi webinar trattano principalmente quelle che sono le mie strategie, le mie tecniche, il mio approccio al trading. Faccio trading da tantissimi anni ormai e sono principalmente devoto al mercato delle valute del Forex. Non disdegno comunque qualche operazione Cina, magari su qualche indice, soprattutto gli americani, però in linea di massima i mercati sui quali ho focalizzato la mia attenzione e i miei trade durante tutti questi anni sono principalmente il Forex, quindi le valute e l'oro. Detto questo, oggi tra l'altro è un webinar dedicato a un argomento che ho trattato in realtà con voi ancora forse un mesetto e mezzo fa, due sempre qui su questi canali diciamo, e che trattava appunto l'argomento delle correlazioni nel Forex. È stato trattato in maniera ovviamente un'oretta o comunque giù di lì, come questa sera, però ovviamente in maniera abbastanza teorica, quindi ho cercato di farvi capire in maniera pratica e spero in modo semplice come funzionano in linea generale le correlazioni principalmente sul Forex. Quest'oggi mi sembrava giusto continuare l'argomento, ve l'avevo anche promesso che avrei continuato a fare degli webinar su questo argomento perché lo ritengo di assoluta importanza per chi fa trading in generale e per chi fa Forex in particolare perché il mercato del Forex è un mercato che è proprio per sua natura correlato e quindi per questo credo sia doveroso per chi si va a cimentare nel mondo del trading e fa trading e vuole essere un trader, magari nel tempo ovviamente ci diventa, ma costante, che realizza profitti. Ecco, la correlazione deve conoscersi e soprattutto non deve essere solo volta così a sapere in modo teorico, ma deve essere volta all'efficacia nel trading. Quindi oggi vorrei con voi guardare magari attraverso grafici, magari anche attraverso delle vostre domande, quindi spero che abbiate un pochino di argomenti da propormi, da vedere qui in ottica correlativa. Io ovviamente adesso vi farò vedere alcune cose, però quello che volevo appunto oggi ci fosse anche un po' da parte vostra di spunti, proprio per farvi vedere dove magari ci possono essere le correlazioni che sì vanno guardate e altre no. Vi dico che io tutto quello che oggi vi mostrerò è frutto della mia esperienza, quindi seppur in linea di massima, in linea generale teorica, ci sono delle cose che, come vi dicevo anche l'altra volta sulla webinar delle correlazioni, che tra l'altro trovate nel mio canale YouTube, basta solo cercarlo, quindi basta andare sul canale YouTube, vediamo un attimo se riesco a farvi vedere intanto. Vabbè, per chi non mi conoscesse, questo è il sito che gestisco da tanti anni, dal 2010, particolarmente ormai storico, ecco lo Wireforex, e se andate qua, cliccando qui su YouTube, quindi cliccando sull'icona diciamo di YouTube, trovate il canale YouTube, magari molti di voi ancora non lo conoscono, ecco lì, se voi andate sul canale YouTube, buongiorno ragazzi, qui aiuto, eccolo qua, l'ho appena aperto, andate sul canale YouTube e andate qui e cercate proprio qui, per esempio, correlazioni, probabilmente troverete l'ultimo webinar che abbiamo fatto proprio qui, con IG, eccolo qua, guardate, questo qui, ne ho fatti svariati di webinar, di altre cose, ma questo qui di due mesi fa, cioè anche questo qui di tre settimane fa, ma questo è proprio un webinar fatto proprio con IG, un'ora di webinar due mesi fa, andatelo magari a rivedere. Ecco, oggi volevo fare un po' la continuazione, diciamo, di quel webinar che vi avevo un po' promesso, proprio perché poi mi è stato anche richiesto, e quindi andarlo a vedere più in ottica un po' più pratica, cioè, benissimo, conosco un certo tipo di correlazione che c'è magari sul mercato, bene, com'è che posso andarla a vedere che mi dia, diciamo, che sia funzionale al fatto di fare del buon trading? Ecco, questo, diciamo, è l'obiettivo di questa sera. Non è così facile, perché non è che qui adesso io vi tratto con delle slide un argomento come può essere, no, l'incrocio di una media mobili, ma è un qualcosa che ovviamente cercate di seguirmi e, ripeto, fate anche domande, perché tutto quello che vi farò vedere è proprio live, così in diretta, e soprattutto è sempre frutto della mia esperienza. Quindi è un po' come guardo io le correlazioni sul Forex. Metterò in ballo anche l'oro, perché lo definisco assolutamente un mercato che per chi fa Forex seguire magari non lo deve per forza tradare se non piace la volatilità che ha l'oro, ma conoscere i movimenti che fa l'oro e in certi momenti ha una correlazione molto importante con le valute, perché ovviamente è quotato in dollari, è molto importante. Quindi vedremo magari alcuni esempi dedicati alle valute e alcuni magari tra valuta, principalmente euro-dollaro e l'oro. Ok? Allora, vedo già che Antonio mi chiede Buonasera, gold e tassi di interesse, dice, come domanda a livello di correlazione. Probabilmente il nostro Antonio si sta parlando del rendimento probabilmente dei tassi di interesse, spesso quelli più utilizzati sono il rendimento a 10 anni e i tassi di interesse americani, il rendimento di T-not a 10 anni, con i movimenti del gold e io ti dico anche di dollaro-yen in realtà, perché in effetti sì, ci sono delle correlazioni tra dollaro-yen, rendimento e tassi di interesse a 10 anni e il gold, sì. Però magari questo potrebbe essere l'argomento magari per una ulteriore puntata dedicata alle correlazioni. Ok? Grazie Antonio però per questa ottima domanda e ricordo a Claudio che mi chiede, visto che si è appena collegato adesso, se si è perso molto, assolutamente no. Ho fatto una breve introduzione in questi 10 minuti perché so che qualcuno di voi magari non riesce a collegarsi subito direttamente alle ore 18, quindi tranquillo. Tra l'altro poi questo webinar comunque andrà nel mio canale YouTube nelle prossime settimane, ancora non so quando ma ci andrà. Bene, allora detto questo io farei un brevissimo cenno guardando i grafici per capire, quindi riprendendo l'argomento dell'altra volta, riprendendo il fatto delle valute maggiori col dollaro americano e i cross valutari. Quindi in questo caso per esempio mi trovo di fronte a euro-dollaro, adesso vi faccio delle domande così vediamo se ci siete, euro-dollaro che è questo, questo è un grafico daily, sapete che io principalmente uso il daily per operare, daily è weekly per l'analisi e daily per operare, quindi questo è ovviamente per me il grafico durante la settimana è quello che guardo. Benissimo, questo è il daily. Andiamo a vedere poi la sterlina-dollaro che sappiamo, l'altra volta ne parlavamo, sterlina che ha una correlazione direi molto positiva con l'euro-dollaro, quindi sterlina-dollaro-euro-dollaro che tendono a muoversi un po' in sincronia. Ovviamente ci sarà sempre poi dei periodi in cui una strappa e una resta ferma, perché è normale, l'euro non è la sterlina, però ecco in linea generale, se vogliamo in ottica operativa, senza fare troppi tecnicismi, sappiamo che sono due valute che contro l'euro-dollaro americano si muovono abbastanza in maniera simile, diciamo così, ok? Detto questo, la mia domanda oggi che vi faccio qual è? L'euro-dollaro e la sterlina-dollaro formano un cross, che è quale cross? e ve lo chiedo qui in chat, visto che siete comunque un po', e quindi credo che qualcuno, euro-sterlina, bravi insieme Alessandro, quindi l'euro-dollaro, eccolo qui, i movimenti, il prezzo di euro-dollaro, i movimenti e il prezzo di sterlina-dollaro vanno a formare, attraverso una divisione, i movimenti, scusate, non di euro-yen, euro-dollaro e sterlina-dollaro, di euro-sterlina. Quindi il prezzo dell'euro-dollaro e della sterlina-dollaro creano un divisore che si chiama euro-sterlina, quindi il prezzo è proprio prodotto da questo. Benissimo, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che euro-sterlina ha una correlazione matematica con euro-dollaro e sterlina-dollaro. Questo significa che per noi che facciamo trading possiamo capire un momento rispetto a un altro. Per esempio, adesso noi ci troviamo di fronte a un euro-dollaro, scusate, a un euro-sterlina che cinque giorni fa ha fatto questa falsa rottura, questa pin bar, questa qui verde, sul livello di supporto. Ok? Questa cosa è successo? Ha portato a una rottura al rialzo e poi aumento di volatilità, quindi che cos'è avvenuto qui? È avvenuto un miglioramento dei prezzi dell'euro-sterlina, quindi un aumento dell'euro nei confronti delle sterline che c'era stato, diciamo, c'era stato preannunciato da una price action particolare proprio qui, su quel minimo, quindi 0.85.40. Ok, Alessandro, muovo lentamente il mouse perché sennò mi si sente a tratti. Va bene, va bene, ok. Grazie. Ok? Quindi, questo. Quindi, se succede una cosa del genere che ci fa una price action euro-sterlina che è un cross su un livello importante ci fa una price action di un certo tipo per un allungo, che cosa significherà? Che se io vado a prendere, quindi non serve per forza tradare questa, ok, ma questa può darci degli spunti. Perché? Perché è formato dal prezzo dei due. Se io vado su euro-dollaro, allora, aspettate un attimo, prendo euro-sterlina, questa giornata è stata fatta il 14 di luglio 2021. 14 di luglio, quindi qualche giorno fa. 14. benissimo. Prendiamo la sterlina dollaro e andiamo a vedere il 14 di luglio che cosa ha fatto la sterlina dollaro. Guardate qua. 14 di luglio ha fatto questa candela verde di rialzo che teneva i supporti. Quindi, euro-sterlina il 14 di luglio ha fatto una pin bar su con falso minimo, ok? e questa è andata su tenendo i supporti. Quindi qui tutto ok, benissimo, e abbiamo l'euro-dollaro eccolo qui, scusate che faccio così, che il 14 di luglio ha creato un falso minimo anche lui proprio dove da un po' di giorni sta continuando a cercare di spingere, riuscendo anche a fare dei nuovi minimi, ma sempre tendenzialmente recuperandoli, ok? Quindi non è mai riuscito a... realmente va. Quindi abbiamo avuto la tenuta della sterlina là con una candela bullish e l'euro con la tenuta qui e l'euro-sterlina che ci fa una price action di questo tipo. Avete capito? Nel momento in cui c'è il breakout qui, quindi convalida la situazione, questo che cosa succede? Mi si sente a scatti ragazzi? Go to webinar che a volte in certi momenti è un po' pesante e non capisco il motivo però a volte al pomeriggio mi fa così. Non so perché ma purtroppo cerchiamo di fare comunque vediamo un po' se riusciamo a... ho chiuso tutto quello che potevo chiudere qui sul computer ok perfetto perfetto qualcuno sente benissimo qualcuno... vabbè comunque dai io cerco di andare piano e non muovere troppo velocemente il mouse così non è troppo pesante poi benissimo allora che cosa è successo? è successo che quindi quel giorno là abbiamo avuto la sterlina che teneva l'euro-dollaro la sterlina-dollaro che teneva l'euro-dollaro che teneva hanno fatto più o due entrambi cioè entrambi sia la sterlina che l'euro hanno fatto un movimento rialzista l'euro-sterlina ha fatto questa pin il giorno successivo c'è stata una spinta al rialzo eccola qua boom quindi cosa significa? significa che euro sta prendendo forza rispetto alla sterlina vado a prendermi euro-dollaro ecco una cosa che vi consiglio queste cose a me non è che me le ha spiegate qualcuno io me le vado a vedere avete capito? io durante il giorno occupo una parte del mio tempo a cercare di capire sempre di più queste dinamiche avete capito? queste e altre quindi cercate anche voi invece di andare a cercare le strategie magiche che non esistono cercate di capire come si muovono i mercati bene allora guardate un po' il giorno successivo quindi il 15 abbiamo detto il 15 luglio l'euro-dollaro fa questa barra qui in mezzo a una falsa rottura e fa una cosa di questo tipo quindi come price action diciamo chi è che la vende qui chi è che è lo spregiudicato che va a vendere l'euro qua cioè difficilmente vai a vendere euro qui no? magari lo vendi qua su questa pin ma non lo vendi qui ci siamo? perché non ci sono i presupposti di price action per farlo vado sulla sterlina e la sterlina seppur tiene al momento i supporti guardate un po' che cosa avviene guardate un po' che cosa avviene cioè ci crea tra l'altro questa probabilmente anche un FTV una delle mie strategie a 1,39 ci fa un movimento al rialzo chi conosce la price action qui c'è il Daniele che mi chiede dove consiglia di andare a reperire queste informazioni ecco ti consiglio di guardare i nostri video sul canale YouTube e di se vuoi di andare a vedere un po' il nostro sito iarforex.com di iscriverti per esempio alla mentorship platinum almeno mensile e vedrai che un po' alla volta queste cose un pochino ti entrano in testa siamo diciamo stati i primi a parlare di price action in Italia nel 2010 e ancora oggi io faccio questo quindi c'è un approfondimento totale nell'argomento dinamiche dei prezzi anche in relazione tra strumento e strumento ovviamente quindi se vuoi approfondire puoi venire nel nostro sito guardare il nostro canale YouTube e trovi moltissime cose detto questo quindi in questo caso specifico qui abbiamo avuto un movimento verso 1,39 qui quando l'euro ha fatto quel segnale short questo ha fatto un segnale short che se lo guardate crea un movimento verso l'alto sfalsato per poi venire giù alla rottura di questo minimo era più interessante vendere sterline col dollaro che vendere l'euro dollaro o comprare euro sterline perché avevamo avuto questa price action interessante qui avete capito quindi io nel momento in cui devo andare sul pratico con le correlazioni in questo caso le correlazioni matematiche poi magari guardiamo anche qualche situazione tra oro e euro dollaro per esempio che è molto interessante però questa è bellissima perché poi è freschissima di qualche giorno fa questa situazione che tra l'altro me ne ero anche accorto di questo non ho tradato in realtà nella sterline dollar short e nell'euro sterline long in questo caso specifico ma mi ero accorto di questo e quindi ho visto come euro dollaro poteva essere uno degli asset che invece avrebbe tenuto e che ovviamente adesso ancora di più mi dà l'idea che può tenere ma detto questo al di là di tutto vedete come andando a ragionare su quelle che sono le dinamiche di prezzo tra il cross e i due cambi nativi diciamo quel dollaro americano si possono creare delle situazioni che ci danno delle conferme anche molto esplicite riguardo a quello che vogliono fare i prezzi perché poi alla fine il forex è quotato a coppie quindi essendo quotato a coppie noi dobbiamo sempre cercare di andare a prendere la valuta quella più forte in quel momento contro quella più debole e questo è quindi ovviamente poi sempre con una fascia temporale perché se vogliamo lavorare di qualche giorno o di qualche settimana poi dipende però dobbiamo comunque guardare queste cose perché queste cose ci danno comunque degli spunti sicuramente interessanti avete capito? sicuramente molto interessanti bene questo è il primo esempio che volevo farvi con il come si chiama con l'euro dollaro e la sterlina dollaro ok vediamo se ci sono domande usd cad daniele beh michele chiede potresti fare un esempio di come si calcola il cambio matematico sì in questo caso michele in questo caso specifico noi dobbiamo andare a prendere il cambio euro dollaro che fa cos'è 17 70 cos'è prendiamo qui andiamo a vedere qua allora in questo caso 1.17 74 diviso euro sterlina è un divisore 1.36 18 0.36 45 eccolo qua euro sterlina 0.36 45 ok va bene ovviamente per esempio se invece si tratta di cambio euro yen queste cose le ho dette anche nel webinar precedente trovi su youtube vatterò a vedere ti ho fatto vedere che dicevo all'inizio comunque euro dollaro per esempio dollaro yen formano euro yen quindi in questo caso moltiplicatore quindi 1 17 72 moltiplicato per 109 no 109 aspettate un secondo allora 1.17 72 moltiplicato per 109 109 virgola 89 6 uguale 129 36 eccolo qua 38 perché si vede che è andato su un po' l'euro avete capito? quindi è proprio matematico ok tutti i cross sono divisori moltiplicatori di due cambi nativi ok è assolutamente molto molto interessante questo ok allora detto questo io andrei a prendere poi invece beh una differenza c'è nel senso che il mercato solitamente i divisori sono non è adesso una regola però sono un po' meno volatili euro sterlina è un po' meno volatile dell'euro yen parecchio meno volatile dell'euro yen sterlina yen euro yen sono molto volatili su due moltiplicatori euro sterlina è meno volatile io poi non è che faccio tutti i cambi di questo mondo cioè non è che faccio il dollaro con singapore il dollaro zar o il capito certe cose che neanche non ho mai proprio neanche aperto un grafico faccio le principali ok quindi diciamo che i cross principali possono essere definiti euro sterlina euro yen e sterlina yen ci possiamo mettere magari gli altri principali che possono essere per esempio l'euro australia l'euro sul canada l'australia yen questi qua il canada yen quelli più diciamo che prendono le 5-6 copie di valute col dollaro nativo principali che si incrociano tra di loro quindi cerchiamo di mantenerci bene o male su queste ok ok questi cambi matematici in che modo possono essere sfruttati al meglio con il forex Daniele dice ecco con l'esempio per esempio che vi ho appena fatto Daniele ok quindi ho appena fatto un esempio di euro sterlina ovviamente bisogna avere delle nozioni anche di price action cioè capire come cosa sta facendo un prezzo e a quel punto allora lavorarci come vi ho fatto vedere prima prendiamo l'euro yen cambiamo un po' guardate qua allora euro yen andiamo a vedere che cosa è successo guardate qua questo è il daily euro yen quindi un euro yen che da novembre 2020 aveva avuto una salita molto interessante che su ogni punto di supporto si poteva magari anche cercare di comprare ok poi con la rottura qui c'è stata una classica guardate forex tecnicamente perfetto con il ritest dell'area statica dinamica e poi il rimbalzo giù cosa è successo è successo che sul settimanale siamo su una zona importante chiave perché abbiamo trattato tante volte questa è una zona di domanda area 129 e proprio qui in questo momento l'euro yen si è fermato e che cosa sta formando se a fine giornata io ovviamente lavoro su il sull'end of day quindi lavoro su il daily lavoro assolutamente non intra day quindi cerco sempre di andare a lavorare su delle price action che si vengono a formare in fine giornata e in questo caso se a fine giornata dovesse venire a verificarsi una situazione di questo genere andrai a guardarmi per esempio come sono impostati euro dollaro e dollaro yen perché io lo so già a memoria in realtà come sono impostati euro dollaro e dollaro yen perché euro dollaro e dollaro yen sono due coppie di valute che io guardo e analizzo ogni giorno faccio il mio piano settimanale ogni settimana cioè ho un'abitudine quindi c'è un'abitudine nel fare ogni giorno la stessa roba sugli stessi cambi non è che vado a cercare l'opportunità su qualsiasi cosa ok quindi quando io vedo un euro yen così e so che dollaro yen era arrivato su un bel supporto che era l'area 109.30 e che l'euro dollaro fa fatica a sfondare bene quell'1.17.50 vuol dire che abbiamo un dollaro yen che potrebbe ripartire e un euro dollaro che potrebbe ripartire quindi se io mi trovo di fronte a una pin bar qui a 129 con falsa rottura e ho adesso andiamo a vedere un dollaro yen e un euro dollaro che sono su delle aree di supporto che possono fare ripartenza è ovvio che una pin bar su euro yen su bel supporto settimanale ovviamente daily la vado a tradare a occhi chiusi avete capito? quindi per rispondere anche nuovamente alla domanda di Daniele che diceva questi cambi matematici in che modo possono essere sfruttati eccolo qua ancora oltre a quello che ti ho fatto vedere di euro sterlina eccolo qua euro yen allora cosa vi dicevo euro yen euro yen è formato da dollaro yen e euro dollaro euro dollaro come è messo? euro dollaro è lento fa fatica scende ma fa fatica ad andare oltre a certi livelli e comunque qui c'è 17,50 qui abbiamo 1,17 qui abbiamo 1,16 non è che abbia proprio tanto spazio di movimento cioè ci sono dei supporti importanti già questo è importante quindi siamo in una zona dove fa fatica il dollaro yen che cosa fa? il dollaro yen è praticamente in un'area 109,30 109,50 una zona questa qui io intendevo questa eccola qua che è una zona assolutamente di ex domanda eccolo qui 109,20 109,30 oggi recupera dopo il movimento short pam pam siamo su un settimanale di questo tipo quindi potete ben capire che ho in questo caso un dollaro yen che potrebbe ripartire quindi debolezza di yen forza di dollaro e un euro dollaro che magari può anche ancora scendere ma non vediamo che non è che abbia proprio tanto sprint nella discesa ok? tende a tenere potrebbe anche ripartire da qui che cosa significa? che un euro yen in questo modo con una price action di questo tipo diciamo che potrebbe essere un buon input per andare lunghi Antonio dice anche sterlina yen è quasi uguale perché? perché abbiamo detto che euro dollaro e sterlina dollaro si assomigliano anche se sterlina dollaro nell'ultimo periodo è stata più debole infatti euro sterlina ha avuto il rialzo e quindi andiamo a vedere sterlina yen che è il cross formato da euro dollaro no scusate da sterlina dollaro e dollaro yen eccolo qui andiamo a vedere sul settimanale qui andiamo a prendere questa zona qui questa qui si e si è fermato proprio sul supporto in chiusura weekly vedete? vediamo un po' il daily eccolo qui su quest'area qua quindi sicuramente anche questo è simile al come diceva Antonio euro yen con la cosa che comunque euro dollaro nell'ultimo periodo è stato un po' più forte di sterlina dollaro anche se entrambi adesso sono su dei supporti perché la sterlina dollaro è tornata a 36,80 l'euro dollaro è lì a 17,5 18 e quindi siamo tutti e due su dei supporti avete capito com'è? cioè è un qualcosa di molto interessante ripeto che ce l'abbiamo così molto esplicitamente ogni giorno sui grafici però spesso i trader soprattutto chi all'inizio tende a magari cercare la strategia e questo e quello invece impariamo a leggere i grafici impariamo a capire la price action impariamo a vedere queste relazioni che ci sono tra i mercati che ci possono dare tantissimi input per farci trading ok per quanto riguarda invece TNOT gold rendimenti eccetera oggi non era l'argomento delle correlazioni intermarket ma inframarket cioè quelle tra valute volevo però farvi vedere anche quella tra oro e ma io l'oro anche se non è una copia di valute la definisco quasi una copia di valute XAUSD la utilizzo molto in questi termini e quindi volevo farvi vedere più questo però magari potrà essere una buona idea andare a fare con voi un webinar magari dedicato anche a aspetti più intermarket relativi al mercato potrebbe essere interessante va bene ok quindi in questo caso lo dico a Marco che mi ha chiesto a che cosa è dovuto eccetera però cerchiamo di capire che possiamo capire che cosa è dovuto a volte cerchiamo di capirlo ma in realtà il mercato non riusciremo mai a capire esattamente che cosa lo ha mosso questo io l'ho imparato nel tempo e quindi l'importante è riuscire a capire nelle dinamiche come si può sfruttarle per creare un utile a noi questa è la cosa più importante perché altrimenti poi ci troviamo nella situazione in cui se una situazione di correlazione che succede non tanto nelle correlazioni matematiche ma nelle correlazioni soprattutto intermarket come può essere per esempio oro euro dollaro che oggi vorrei farvi vedere qualche esempio non sono sempre uguali allora quando poi non funzionano se non siamo ben consapevoli di quello che stiamo facendo tendiamo a dire ah ma no questa è l'ennesima cosa che non funziona invece funziona bisogna saperla ragionare bisogna sapere che non tutto funziona sempre ma anche la strategia più bella di trading non funzionerà sempre ok va bene va bene allora volevo farvi vedere un'altra cosa euro dollaro sempre con sterlina dollaro di cui parlavamo prima si può anche vedere in ottica di quella che io ci ho fatto anche alcuni trade su queste cose uno tra l'altro proprio che ho mostrato nel platino negli ultimi mesi intorno a febbraio dove ho fatto un trade sulla sterlina dollaro dove aspettavo proprio l'inizio di un movimento lungo ulteriore di euro dollaro per andare poi sulla sterlina perché era più forte per esempio vedete come si va a lavorare anche su queste cose però detto questo l'8-9-12 aprile del 2021 l'8-9-12 aprile del 2021 vorrei farvi vedere che cosa è successo su euro dollaro e sterlina dollaro allora guardiamo un po' quella che era la price action sull'euro dollaro 8-9-12 aprile c'è questa situazione qui cosa era avvenuto sull'euro dollaro era avvenuto un movimento di rialzo con una congestione a inside quindi era avvenuto questa situazione qua ok 8-9 questi giorni qua in un mercato forte che era ripartito aveva congestionato e quindi che spesso la sua rottura può portare nuovi movimenti la sterlina dollaro l'8-9-12 aprile di quel periodo eccoci qua aveva creato un classico doppio minimo tecnico oltre che uno dei miei ecco qua questo qui guardate qua 8-9-11-12 aprile eccolo qua questo quindi avevamo avuto la sterlina che ha fatto un minimo e poi ha fatto un nuovo minimo con una price action anche qui molto interessante quindi che cosa voglio dirvi voglio dirvi che quando i due cambi spesso i due nativi per esempio avevo dollaro e sterlina dollaro e vi potrei dire anche per esempio Australia dollaro e neozelanda dollaro che sono altre due coppie che viaggiano un po' similari diciamo nei loro movimenti fanno delle price action interessanti possono darci ancora più conferma che o quella lì tipo in questo caso sterlina ha fatto il doppio minimo possa salire o che la correlata in questo caso euro dollaro possa continuare la sua salita perché in questo caso entrambe ci formano la tenuta cioè il 12 aprile sulla sterlina c'è fatto questa barra outside con falso minimo doppio minimo che alla sua rottura poteva portare i prezzi su in ottica di price action l'euro dollaro in quel momento guardate qua 8 9 il 12 ha fatto un ulteriore insight il giorno dopo tutte e due hanno rotto al rialzo dei price action setup avete capito? quindi entrambe erano io a volte dico sono ben assonanti insieme cioè sono si sono ben intonate quando sono un po' stonate queste cose nell'ultimo periodo per esempio questo è successo anche sugli indici no? c'erano alcuni che sparavano su alcuni che non andavano tanto bene io in trading room nel platino dicevo da 10 giorni che ti fa attenzione perché con gli indici messi così non è giusto andare dentro con gli indici con lo yen che ci stava un po' rafforzando attenzione quindi vedete come avere una visione globale e conoscere per essere efficaci nel trading a livello appunto le correlazioni sono importantissime perché ci permettono di migliorare proprio la nostra operatività e fare dei trade che possono essere più sani più interessanti più profittevoli Alessandro dice prevedere anche l'oro con le altre valute oltre al dollaro eh sì anche questo potrebbe essere un argomento però abbiamo un'oretta Alessandro hai ragione ma magari me ne prendo di appunti di queste cose e magari le vediamo e Marco dice grazie infatti la correlazione va capita come dici te a volte non si verificano sempre in tutti i periodi storici eh no le correlazioni intermarket no ovviamente le correlazioni invece matematiche nel forex sono matematiche quindi sì quelle sì non possono esserci dei non c'è un momento in cui l'euro sterlina non viaggia matematicamente con euro dollaro non può succedere o gli altri cross diciamo ok mentre nelle correlazioni intermarket sì e vediamone una che è quella che io guardo una di quelle che guardo molto che è l'oro eccolo qui con che cosa l'oro con l'euro dollaro ok l'oro con l'euro dollaro io eh lo guardo molto lo guardo molto perché ovviamente ecco qui è ovviamente da fare sempre da guardare il momento ma può darci veramente degli input addirittura anche quando si scorrelano anche lì ci possono dare degli input perché ci mostrano magari che quel mercato è più debole o più forte ancora di più eh allora vi faccio vedere qualche esempio va bene ragazzi spero vi piaccia questa puntata riguardate perché sono situazioni ovviamente anche non facilissime da spiegare come poi si utilizzano nel trading però molto importanti allora 5 e 6 gennaio 2021 5 e 6 gennaio 2021 andiamo qui in cima questa zona qui quindi noi arrivavamo da un euro dollaro in pompa magna boom 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 su e il mercato dell'euro dollaro ha iniziato a creare quelli che io chiamo massimi arrotondati ok vedete tutta questa situazione qui che in realtà se voi guardate bene assomiglia un po' al contrario a questa situazione qui no con dei minimi arrotondati guardate qua eh va bene vabbè comunque non voglio adesso fare benissimo si forma una price action che può portare giù i prezzi addirittura il giorno dopo scende insomma ci crea debolezza 5-6 questa zona qui insomma gennaio ok 4-5-6 gennaio oro lo porto qui così ce l'ho più vicino perfetto oro qui eccolo là allora guardate cosa è successo all'oro proprio il 4-5-6 gennaio avete visto 4-5-6 gennaio l'euro fa dei massimi non li tiene butta giù dopo tutti quei massimi arrotondati l'oro arriva in cima su un'area di vendita e fa un doppio massimo lower low segnale che ho inventato io ragazzi nel 2010 con il mio primo ebook e che butta giù il prezzo quindi questa è una conferma se non volete tradare l'oro ma è una conferma io la uso così poi magari qualcuno la usa in maniera diversa non la usa proprio ma io la uso così e devo dire che mi trovo molto bene che l'euro dollaro ha ancora più confermato che molto probabilmente scenderà quindi se io ho un input come quello che potevo avere qui questo è il giorno 6 gennaio vado sull'euro e vado a prendere sempre scusate il 6 gennaio questo è il 7 6-7 guardate va una bomba che quindi vuol dire che l'oro il 7 era in inside dopo questa grande barra l'euro era molto probabile che sul breakout dei minimi potesse creare un movimento short di qualche giorno ovviamente io visto che Andrea mi chiede time frame daily oppure H1 sulle tue analisi assolutamente H1 non esiste it's not enough it's not enough H1 it's not enough non è abbastanza daily weekly per me ok per me è daily e weekly il mercato quindi vado a appunto vedere questa cosa confermo e posso fare un trade di qualche giorno che è la fascia temporale che utilizzo quindi un breve termine per fare un trade short ancora più confermato dalla debolezza arrivata in cima a quel livello o nelà di oro per andare a vendere posso anche farle tutte e due è ovvio che se le faccio tutte e due vado a aumentare rischio però ci può stare cioè noi trader la cosa che facciamo è quella di rischiare ogni volta quindi di base uno può anche farlo però è per farvi capire come leggere io lo guardo molto l'oro con l'euro altro grande bel bel momento è stato questo il 24 25 26 di febbraio qui con questa pin con falso massimo che poi butta giù quindi euro dollaro che crea no un eccolo qui va su questi massimi crea una pin bar che poi viene rotta al ribasso e butta giù in volatilità che giorno è? abbiamo detto 24 25 26 febbraio andiamo a vedere l'oro 24 25 26 di febbraio qui no qui questo qui guardate che cosa succede l'oro iniziava un movimento short con massimi decrescenti minimi decrescenti pam pam qui crea un ftv indecision bar che alla rottura porta i prezzi giù e quindi il mercato era un mercato in trend scendente che creava una price action il 23 addirittura un giorno prima qualche giorno prima 23 24 25 no? tutto questo è proprio un grafico che ci mostra una ulteriore no? un ulteriore movimento short e quindi qui per noi la correlazione serve di conferma per un euro dollaro short ovviamente adesso vi sto facendo vedere questo il tema oggi il topic oggi è la correlazione quindi per il fatto che il mercato possa scendere più quindi euro dollaro una situazione del genere che il 25 butta giù pesantemente in volatilità il 25 guarda qua l'euro dollaro fa la pin bar quindi il giorno dopo se sono long esco da una posizione se non ho nulla posso entrare short ok? vediamo un altro io qua mi sono scritto 30-31 marzo per esempio 30-31 marzo quindi mi sono scritto qui quindi l'euro dollaro è arrivato su dei minimi ed è ripartito quindi questo magari anche si può prendere un po' di più diciamo questa parte qui quindi 30-31 1 aprile 4 aprile 5 aprile questa price action quindi di minimo che recupera ok? mercato dell'euro dollaro scende 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 recupera io qui avevo delle posizioni short mi ricordo chiuse perfettamente in questo caso euro dollaro oro quindi abbiamo detto fine di marzo primi di aprile guardate qua dove era l'oro doppio minimo tecnico pam pam e ripartenza quindi eravamo arrivati un po' come la sterlina che vi ho fatto vedere prima con l'euro su un doppio minimo che recupera l'euro è arrivato su un minimo e lo recupera questo era guardate qua 29-30-31-1 ok? bellissimo bellissimo quindi che vi dico qua c'è tutta la price action che vi serve per fare delle posizioni long sull'euro magari o poi vado magari sull'euro di più ma faccio anche sull'oro per farci poi un'operazione vedete come il mercato ci mostra delle cose anche solamente andando a vedere delle correlazioni poi voglio farvi vedere un momento in cui è scorrelato no? cioè in realtà ne ho ancora qua ho visto 13-14 aprile 3-4-5 maggio 9-10-11 giugno ne ho però voglio farvi vedere anche il momento in cui mi ricordo a novembre siccome lo guardo lo guardo lo guardo sempre questa cosa a novembre sarà la scorrelazione dov'è chi era? novembre non mi ricordo più qui è stato forse novembre 2020 qui no? no qui questo giù quasi dai questo qui guardate qui qui c'è stato il movimento short dell'oro pesantissimo che già stava andando giù l'euro cosa aveva fatto ve lo ricordate tra novembre e dicembre cosa era successo? l'euro è salito io l'ho anche comprato e qui nell'ottica che è scorrelato ci dice qualcosa cioè nel momento in cui guardate c'è tutta sta storia qui oro che scende proprio senza nessun problema una slavina al ribasso e l'euro quel giorno lì eccolo qui nove novembre tra l'altro data delle elezioni se non ricordo male eccolo qui nove novembre bam quattro novembre quindi quattro novembre pin bar nove novembre eccolo qua che viene giù questo qui se lui tiene con l'oro che si era scorrelato e stava scendendo cosa significa? che l'euro è molto più forte cioè l'euro è molto più forte non è una coppia di valuta è l'oro ma che l'euro dollaro in questo caso ha una forza importante perché solitamente c'è una correlazione spesso positiva tra euro dollaro e oro in questo caso si era scorrelato quindi se uno dei due tiene o fa vedere di essere più forte è ovvio che ancora di più quella situazione è interessante vi faccio vedere l'ultimo periodo per esempio anche l'ultimo periodo guardiamo qui l'ultimo periodo dell'euro da praticamente dal 20 di giugno ad oggi l'euro sta salendo cioè sta scendendo quindi è salito poi è sceso guardate dal 20 di giugno l'oro che cosa ha fatto 18 giugno è salito poi ha fatto un nuovo minimo ed ha recuperato pam pam quindi c'è una sorta di scorrelazione qui quindi adesso qui mi aspetterei qui è più forte l'oro ovviamente più forte l'oro però in questo caso ancora di più il fatto che l'oro stia facendo delle price action long e l'euro sia su un buon supporto mi dà ancora di più conferma che probabilmente l'euro dollaro potrebbe leggermente fermarsi nel breve magari fare uno strappo verso l'alto non troppo uno strappino verso l'alto e magari l'oro dare che ha una forza relativa maggiore dare uno strappo di più verso l'alto per poi magari ricondursi ad un movimento long insieme o short più di più ampio di spiro avete capito quindi io guardo costantemente queste dinamiche tra oro euro dollaro perché le reputo veramente interessantissime e profittevoli cioè ci danno tante informazioni questa cosa ovviamente bisogna avere poi delle nozioni di price action e soprattutto esperienza perché nel trading ragazzi l'esperienza non si compra noi cerchiamo di mettere ogni giorno con le trading room che facciamo sul servizio platinum sul mentorship platinum a disposizione della nostra esperienza però ogni giorno anche noi facciamo sempre più esperienza quindi siamo sempre pronti a rimetterci in gioco e guardare è molto importante però capire queste cose perché queste cose vi dicono tanto quindi la correlazione sia intermarket e in questo caso ho preso solo oro con euro dollaro e inframarket quindi tra cross e coppie di valute è sicuramente interessante sicuramente comunque ci saranno altri momenti in cui faremo queste webinar di questo tipo perché intanto non li fanno in molti e invece sono fondamentali se uno vuole fare il forex cioè il forex non sono le azioni avete capito ragazzi è un mercato diverso e ha delle peculiarità differenti e dobbiamo conoscerlo bene se vogliamo farlo va bene poi vabbè qua mi chiedete dei time frame delle entry però oggi il topic ragazzi sono le correlazioni ok quindi questo è il topic di oggi per venire a rispondere un attimo sui time frame mi dicevate prima H1 ripeto io utilizzo daily e weekly ok principalmente questi perché per me sotto di là è molto rumore ok siccome alla fine l'obiettivo è quello di fare profitto non è quello di tradare tanto ma di fare profitto io ho bisogno della qualità ecco perché vado e perché H1 is not enough come dicevo prima allora Andrea dice la correlazione si può avere su euro dollaro anche guardando l'indice americano se concorde grazie ma allora guarda dipende un po' dai periodi dipende un po' dai periodi per esempio ecco una situazione che mi viene da dire è che un euro dollaro che ieri bene o male ha tenuto ancora i supporti con indici che sono scesi molto e il dollaro sulle altre si è cresciuto ecco in una situazione del genere mi sarei aspettato una situazione come dire di dollaro forte ecco anche sul anche sull'euro e invece no quindi non è una correlazione così matematica diciamo che ci sono momenti di risk on e risk off dove magari c'è più voglia di acquistare ci sono più acquisti di dollari ieri per esempio sono venute giù le borse dollaro yen e però l'euro dollaro per male si è fermato quindi è stato più che altro un qualcosa circoscritto alle azioni non è stata una cosa globale dove c'è stato proprio risk off totale sui mercati seppure ci sono stati dei grandi movimenti ok per le correlazioni mi chiede Marco trovi utile il dollar basket no non lo guardo più di tanto cioè è importante comunque l'indice del dollaro però è molto simile all'euro dollaro essendo pesato l'euro su questo paniere del 57,46% non mi ricordo quasi il 60% poi c'è lo yen la sterlina e praticamente andiamo quasi a un 80% con questi tre io tendo a guardare direttamente le valute eh tendo a guardare direttamente le valute Claudio dice che chi utilizza forse il G forse il G sì beh sì sì è giusto non è sbagliato il dollar index è sicuramente uno strumento interessante è un paniere che ci mostra la forza del dollaro su euro sterlina yen canada corona svedese e franco svizzero se non sbaglio quindi però è pesato principalmente sulle prime tre euro in primis sterlina yen anzi euro yen e sterlina ok quindi va bene sicuramente è anche uno strumento tradatto a livello istituzionale quindi è liquido molto liquido però se tu guarda ti faccio vedere se tu prendi così prendi un mensile così senza questo qui è il mensile dell'euro dollaro ok andiamo a prendere il mensile del dollar index ok allora guardalo qua al contrario ovviamente questo è il mensile del dollar index questo è il mensile dell'euro dollaro al contrario vorrei farti vedere vediamo se riesco a fare così fate pazienza provo a fare una cosa così si capisce meglio circa così va bene allora guardate un po' prendiamo l'ultima parte l'ultimo anno da qui l'ultimo anno e mezzo guardiamo qua questo è l'euro dollaro indecision bar indecision bar inside 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 rottura rottura poi barra verde piccolina piccolina insomma che rompe barra rossa che rompe piccolina poi verde cioè rossa qua e questo questa che fa inside è così guarda qua è uguale questa rossa questo è il contrario ovviamente perché euro dollaro dollar index bisognerebbe fare dollaro euro sarebbe identico ok poi questo viene giù questo viene su poi fa questo falso minimo e qua fa questo falso massimo questo fa questa qui verde questa fa rossa è identico non so se te l'hai mai accorto quindi io sinceramente essendo ripeto un paniere non è come non so lo standard pur 500 dove tu hai 500 aziende pesate hai principalmente tra copie di valute ne hai 6 ma sono principalmente 3 e di cui una quota praticamente al 60% dentro è pesata al 60% quindi è sicuramente interessante guardare il dollar index per carità non sto dicendo però io sinceramente guardando l'euro dollaro trovo che praticamente abbiamo la stessa situazione quindi te l'ho mostrato su un grafico mensile addirittura quindi puoi ben capire che non stiamo parlando di un grafico quindi guarda anche il settimanale se vuoi tanto per farti capire da qui tanto per non prendere troppe settimane allora qua questa è questa questo movimento è questo e via dicendo quindi è proprio molto simile al contrario dell'euro dollaro ok ci siamo va bene non le avevi mai visti Marco insieme così sì sì sono quindi per quello io vado a ti l'ho già mostrato anche le 3d run che faccio sul platino già dette altre volte queste cose ma si sta insomma ridirle ogni tanto non fa male il vix serve a qualcosa il vix è si misura la volatilità implicita delle opzioni quotate sullo standard pur 500 insomma serve a qualcosa io non lo uso che poi possa mostrarti no su certe situazioni quando aumenta sopra certi livelli diciamo significa che la volatilità aumenta ricordiamo per esempio le torri gemelle no dove ma soprattutto l'eman con l'eman ricordo il vix andò mi sembra oltre a 90 e quindi gli indici crollarono però io sinceramente facendo principalmente forex non è che non lo guardo hai capito poi magari qualcuno che fa altri strumenti magari può guardarlo va bene va bene allora ragazzi io a questo punto penso che abbiamo detto tutto spero che questo webinar vi sia piaciuto sia stato per voi fonte anche di nuove conoscenze magari anche di mettervi a studiare alcune cose che magari vedete siete magari un po' indietro su alcune cose magari cercare di recuperare certe cose che sono sicuramente importanti nell'ottica del trading io vi ricordo che siamo sempre disponibili alla mail info chiocciola yearforex.com direttamente sul sito yearforex dove trovate un sacco di materiale trovate anche la guida sulla price action gratuita quindi scaricate interessante e basta a questo poi il canale youtube ovviamente iscrivetevi se non siete ancora iscritti io vi 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 saluto sì è possibile rivederlo rinaldo nelle prossime settimane lo inseriremo nel mio canale youtube yearforex ok quindi iscriviti così poi hai tutti i video e ti può guardare anche tutti i video vecchi eccetera eccetera grazie a voi io vi auguro buona serata e ci vediamo alla prossima ciao a tutti grazie a tutti